Più vado avanti in questa fantastica, fantasmagorica giornata di Serie A e più mi rendo conto che la nostra bellissima, gigantesca, abnorme vittoria per 1 a 5 non sta servendo a un cazzo, santo cielo perché c'era tutto così felice, tutto così contento dicevo, mamma... a livello morale, moralmente, moralmente, insieme, moralmente servirà e come però cazzo, ci ho detto, chissà quanti punti recupereremo ma che recupereremo? e la Juve ha vinto, e l'Inter ha vinto, e il Napoli ha vinto, e l'Atalanta ha vinto e il Verona ha battuto la Lazio in uno scontro che chi vinceva vinceva comunque in ogni caso erano tutte e due lì stasera tocca al Milan, ma tanto il Milan per ora è molto molto lontano santo cielo, vabbè, comunque la Juventus vince, vince, ribalta no, non ribalta nulla in realtà perché abbiamo andato a giro la stessa Juventus batte il Genoa innanzitutto questa è una vittoria di carattere, secondo me una vittoria di carattere perché arriva in una situazione non semplice tant'è che la Juventus fatica a trovare il gol dell'1-0 è praticamente un parto il gol dell'1-0 della Juventus perché la Juve spinge, gioca praticamente l'intera gara a trazione anteriore e vi dirò, guardandola, è stata una gara non divertente perché a livello di divertimento non mi ha divertito, se poi posso dire la verità però è stata intensa, questo sì cioè la Juventus per tutta la gara è stata in avanti alla ricerca del gol del vantaggio che poi ha trovato con Di Bala che si è sbloccato e io penso che se la Juventus se nella Juventus si sblocca anche Di Bala beh, potremmo veramente parlare di bianconeri tornati alla ribalta ora, voglio andare con calma perché? perché una Juventus che conoscevamo sempre e da sempre ha il carattere e questa partita la vince e quindi la Juventus questa partita l'ha vinta però dall'altra parte mi sento anche di dirvi che la Juventus che io conoscevo quando va in vantaggio per 1-0 soprattutto dopo aver fatica soprattutto dopo che non si trovavano spazi, eccetera non prende subito gol e sta cosa mi ha sorpreso clamorosamente che poi nasce sull'asse di una Juventus B come ho parlato nelle mie Insta Stories su Instagram seguitemi se non lo fate mi chiamo simonesiquolf-official ah, regà, importantissimo importantissimo alle 22.45 circa uscirà il mio post partita del Milan non vi arriveranno le feed quindi mi raccomando, mi raccomando cliccate appena finisce la partita del Milan e venite a vederlo perché non vi arriveranno le feed domani, ora di pranzo ci sarà la mia live reaction per quanto riguarda i sorteggi di Champions League Europa League non vi arriveranno le feed mi raccomando quindi mi raccomando mettete la sveglia sia stasera che domani stavo dicendo è una Juventus è un gol che arriva da una Juventus B sostanzialmente perché arriva dal pallone che gli viene dato oddio ho sfondato tutto fratelli il gol lo fa Sturaro e il pallone glielo dà Pellegrini Pellegrini Luca quel Pellegrini Luca che una volta era nostro e che abbiamo scambiato con Spinazzola per la Juventus alla Juventus quindi sostanzialmente è una Juventus B uno tra in prestito eccessioni che appunto aiuta il Genoa a pareggiare e io là ho detto ma non è che mo che la Juventus ha preso gol non riesce cioè non lo so se in palla se in pappina e secondo me non era così strana la situazione cioè poteva tranquillamente capitare considerando poi il fatto che secondo me se tu attacchi ad una porta per tutta la parte trovi il gol dopo tipo un'ora e però poi il gol lo prendi subito e lì cambia qualcosa e invece no e invece no perché poi la Juventus continua ad attaccare addirittura a un certo punto la Juventus ha giocato con tre punte con Morata con Di Bala e con Ronaldo quindi super trazione anteriore la Juventus cercava il gol del vantaggio lo trova grazie ad un calcio di rigore secondo me nitido ma nitido veramente che Ronaldo realizzerà centrale se non vado errato e poi quando sono andati il secondo rigore alla Juventus ho detto ecco so già come finisce ho detto ho pensato ora Ronaldo lo sbaglia la Juventus vince lo stesso quindi io non sono felice tra mille i rivetti da tifoso perché la Juventus ha vinto in più Ronaldo sbaglia il rigore che ce l'ha il Fantacar non lo l'altro il Fantacar non lo butta dentro è come se fosse più 3-3 e io me la prendo in der culo invece Ronaldo trasforma il suo più 3 in un più 6 porta a casa la vittoria la confeziona praticamente con quel gol lì però credo che al Genova vanno fatti migliaia di complimenti perché ora al di là di com'è finita e ci sta perché il Genova è poi quella squadra che è un po' un crotone un po' più in alto quest'anno cioè quella squadra che gioca sempre bene sempre bene ma i punti a casa non li porta mai che è un po' la prerogativa di tutta la classifica a parte bassa di quest'anno perché poi anche il Torino fa un sacco di come ne prende tanti altri non vince mai il Genova ieri ha vinto ma è la prima che vince dopo 10 partite quindi insomma capite bene che si parla di una di una di una sfera all'interno della nostra classifica della nostra serie A in cui queste squadre comunque producono un gioco però i punti non li trovano mai forse dovrebbero insomma valutare questa cosa inerente appunto al fatto che c'è non lo so ma nemmeno di poco poca concentrazione perché poi oggi ad esempio il Genova ha dato i miei complimenti dopo l'1-0 si è buttato in avanti ha trovato l'1-1 poi dopo il 2-1 della Juventus si è rigettato in avanti e ha cercato il 2-2 non l'ha trovato ma anche perché la Juventus secondo me è stata incosciente perché ha fatto 1-0 non puoi lasciare spazi così grandi dovresti diciamo accompagnare la gara nel finale cosa che la Juventus ha sempre fatto e che comunque anche Pirlo pian piano prenderà per mano dopo l'ha fatto comunque sul 2-1 la Juventus ha smesso di buttarsi in avanti ha iniziato a controllare la partita tant'è che poi è arrivato anche il rigore del 3-1 ma quando è sul 2-1 dopo una gara così difficile secondo me questo devi fare devi dire guarda a me non me ne frega più di nulla io non vado ad attaccare io mi tengo il mio 2-1 e se c'è l'opportunità affondo il colpo e provo a vincere questa è una prerogativa importante e quindi la Juventus c'è riuscite l'ha fatto Ronaldo fa una doppietta su due calci di rigore tutte e due nitidi non venite a dirmi che non c'erano addirittura sulla seconda occasione ce n'erano due uno su Ronaldo e uno su Kulusevski nella stessa azione quindi potranno fischiare quello su Ronaldo e quello su Kulusevski era uguale c'erano entrambi secondo me e ve lo dico da persona che se il Giano fa un punticino non è che meriti però è la verità secondo me c'erano entrambi e la Juventus ha meritato la vittoria cioè il Giano si è ragionata ma la Juventus ha meritato la vittoria secondo me vi dicevo Ronaldo fa doppietta e aggancia Zlatan Ibrahimovic che non sta giocando ovviamente invetta la classifica capocannonieri e innanzitutto sono contento di vedere Ronaldo e Ibra invetta la classifica capocannonieri questo è un po' l'anno degli over 30 32 33 in realtà e forse anche 30 quanti anni c'ha Ibra Ibra ce ne ha 40 quanti anni c'ha Ronaldo 34 33 34 forse anche di stuttura ver 33 che appunto si riprendono il proprio calcio ed è una bella cosa al di là di questo poi qualcuno dirà beh sic però Ibra è stato fermo per tanto tempo ma in realtà è entrambi la situazione forse Ibra è stato fermo per più tempo ora non c'ho davanti la panoramica però sia Ronaldo sia Ronaldo ha avuto il covid è stato fermo per tanto tempo Ibra ce ha avuto il covid è stato fermo per tanto tempo Ibra si è rinfortunato in questo momento però hanno giocato poco secondo me rispetto alle partite giocate qualcuno almeno Ibra e Ronaldo qualcuno ha 3 o 4 a testa l'avranno saltato ora vado un po' a memoria non lo so forse si e quindi vi dico è pazzesco vederli là cioè stanno tenendo una media circa di 42-43 gol finali perché 10 partite regà sono tantissimi sono tantissimi sono tantissimi comunque voi direte 10-12 partite 38-38 no perché qualcuno l'hanno saltata ve l'ho già spiegato detto questo stasera ci sarà il Milan quindi sono molto curioso di vedere come andrà questo Milan che dovrà dare una risposta perché l'Inter ha vinto perché la Juventus ha vinto perché il Napoli ha vinto la Roma ha vinto e l'Atalanta ha vinto mi dimentico sicuramente qualcuno mi dimentico sempre qualcuno e niente comunque questa giornata è abbastanza piatta vedremo stasera il Milan non va voglio gufan voglio dire poi mi spiegate perché c'è questa cioè allora io me l'aspetto da tifosi della Roma della Lazio del Napoli della Fiorentia dell'Atalanta che non hanno mai vinto grandi cose e che quindi partono un pochino più oristi quando dicono e che stanno vincendo tutto no non parla scaramanzia ma che vado a dire a un tifoso del Milan stanno stando a giocare bene potrete vincere scritto gufo 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 ma che è tutta sta provincialità ma da dove l'avete tirata fuori capisco che non vincita tanto tempo ma insomma nel senso perché non se ne può parlare cioè qual è il problema se vedo che l'Inter oggi ho visto ad esempio che l'Inter secondo me si è rimessa in careggiata eh no si è un gufo non so un gufo si è rimessa in careggiata l'avevo detto del Milan post covid e tutti gufo gufo guarda mondo sta ogni settimana mi dicono eh ma gufi 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 il Milan continua a vincere poi magari stasera perde perché non lo sappiamo perché il calcio è bello perché è imprevedibile la palla è sferica però insomma per ora è primo e se non sbaglio pure dopo stasera sarà primo indipendente da risultato quindi che cazzo regà mi raccomando dopo postpartite del Milan iscrivetevi al canale boccia lalala ciao addio a fine